Aspetta, so chi possiamo chiamare. Ora vedi. Il numero verde. Guillaume, buongiorno. Da quanto tempo? Come posso aiutarla oggi? L'intelligenza artificiale. Ottimo. Più ne sento parlare, meno ne capisco. All'inizio pensavo che fosse fantastica, ora sono con mio cugino Theo, che mi ha appena mostrato un articolo su Stephen Hawking. Sai il brillante ricercatore? Capisco. Diceva, lo sviluppo di un'intelligenza artificiale potrebbe mettere fine alla razza umana. È inquietante quello che dice questo tipo. Chi ha paura dell'IA? Certo, Guillaume, però bisogna chiedersi chi è a dirlo. Gliel'ho detto, è mio cugino Theo. Salve. Ma no, mi riferisco a Stephen Hawking. È stato un grande studioso dell'universo, ma l'IA non era il suo campo. Ascoltate piuttosto un vero specialista in materia, come Jean-Gabriel Ganassiat, ricercatore in campo informatico e responsabile del comitato etico del CNRS. C'è sempre un po' di confusione su questo termine. Molte persone dicono, esiste davvero? Credete all'intelligenza artificiale? Perché la immaginano come una specie di fantasmagoria. Hanno l'idea che una macchina si animi tutta un tratto e diventi intelligente. Vi dimostro che non è così. L'intelligenza artificiale è una disciplina scientifica. Questo è importante. Sì, ma esistono di certo delle storie su personaggi artificiali dotati di intelligenza. Pinocchio, Frankenstein… Terminator, ci uccideranno tutti. No, vi interrompo subito. Un robot non è necessariamente un IA, è una carcassa meccanica con dei sensori e un computer al suo interno. E a volte, ma solo a volte, ci sono anche degli algoritmi detti intelligenza artificiale al suo interno. Vedi, Theo? Guarda il tuo smartphone, non puoi dire che somiglia a un robot. Ma non c'è IA qui dentro. Certo che c'è! Sì, confermo. Ma torniamo a Terminator. Sapete, nella realtà non esiste un'intelligenza in grado di fare tutto ciò che si vede nei film. E non abbiamo la certezza che prima o poi accadrà. E poi, ognuno è libero di credere a ciò che vuole. Ma non sono altro che credenze, non è scienza. D'accordo, ma anche Elon Musk e altre persone, in particolare alcuni dirigenti del web, anche loro sono molto allarmisti e sono loro gli stessi responsabili dello sviluppo di queste tecnologie. Vero. Ecco, questa storia puzza di fregatura. Non serve farsi prendere dalla paranoia. Ma è vero che queste tecnologie sollevano questioni etiche e sociali importanti, che bisogna affrontare di pari passo con i progressi scientifici. Scienza senza coscienza non è che la rovina dell'anima, diceva Rabelais nel XV secolo. Bravo, Guillaume. Certo. Le preoccupazioni attuali sono del tutto legittime, poiché l'IA ha un impatto concreto sulla società. È fondamentale che chiunque comprenda di che cosa si tratta realmente, per essere in grado di discutere le scelte economiche e sociali che devono essere fatte. Vedi, Theo, tuo padre ha ragione. Non è necessario che tu sia un meccanico per guidare un'auto. Ma è comunque meglio di guardare nel cofano per capire come mettere in moto e come frenare. Bene, ci penseremo su, d'accordo? Ok. Quindi l'intelligenza artificiale cos'è?